Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con un altro download oggi vediamo come scaricare IT, l'ultima uscita del 2017 in modo completamente gratuito cerchiamo su il corsaro nero come al solito IT 2017 allora per mia esperienza personale ho scaricato questo qua primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo l'ottavo vedete questo, si vede che c'è il cpu, il cvq e come vedete qui avremo tutta la trama screenshot, tutto qua tutte le cose che dovete sapere 1080p c'è full hd cliccate in agnet api torrent ora vi faccio vedere che praticamente riscarica solo il file il file che ora vi faccio vedere come sempre ragazzi io non posso cessare perché con screen customatic non si possono non si può registrare i giochi quindi la musica si trova qua allora mi scarica solo questo file il mkv ve lo faccio vedere che c'è scritto che c'è scritto che c'è scritto qua quindi è reale niente ve lo scarica 1080p si sente bene a c3 in italiano e quindi niente ragazzi spero di esservi stato utile so che molti l'avranno già visto ma non mi interessa perché può essere stato utile ad altri e niente ciao a tutti ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao